buongiorno a tutti siamo giunti alla undicesima lezione di fotografia in questa lezione parleremo del sensore nella lezione 2 abbiamo parlato di come si forma l'immagine sulla pellicola purtroppo al giorno d'oggi le macchine fotografiche sono quasi tutte digitali quindi le pellicole sono ormai in disuso quindi noi approfondiremo la nostra lezione su come catturare l'immagine tramite sensore fotografico e come viene suddiviso il sensore in pixel e come i pixel vengono memorizzati all'interno delle memorie cominciamo con la lezione arrivederci il principio del funzionamento parte da un elemento elettronico la fotoresistenza o fotoresistore in base alla quantità di luce che colpisce la fotoresistenza viene prodotta una corrente elettrica che maggiore è la quantità di luce maggiore sarà la corrente prodotta mentre al buio non fornisce nessuna corrente se alla massima esposizione alla luce la corrente fornisce 5 volt e al buio 0 volt tutti i valori intermedi forniscono le gradazioni di grigio il sensore è composto da un certo numero di fotodiodi quadrati che rilevano la quantità di luce che li colpisce e come le fotoresistenze forniscono una corrente proporzionale alla luce che li colpisce un singolo fotodiodo fornisce un'informazione di bianco nero e 253 tonalità di grigio il valore di luce che il fotodiodo legge viene convertito in numero binario e memorizzato in un byte il byte è un insieme di 8 bit che serve a memorizzare e trasferire informazioni nei sistemi informatici ogni byte è composto da 8 bit che possono essere uguale 0 ossia spento oppure uguale 1 se acceso se abbiamo tutti i bit a 0 il valore del byte sarà uguale a 0 il numero 1 è rappresentato dal primo bit sulla destra impostato ad 1 per rappresentare il 2 abbiamo il primo bit impostato a 0 mentre il secondo è uguale ad 1 ogni volta che ci spostiamo all'interno del byte il valore del bit raddoppia diventando 2 nel secondo posto 4 nel terzo e così via fino all'ottavo bit che ha valore 128 se tutti i bit sono accesi ossia impostati ad 1 e facciamo la somma di tutti i bit il valore massimo ottenibile e 255 quindi con un singolo byte possiamo registrare 255 valori di grigio dal nostro fotodiodo di cui 0 è il nero ossia buio completo e 255 il bianco ossia la luce più alta che può essere registrata per definire un colore usiamo il sistema rgb ossia utilizziamo i colori primari rosso verde e blu per formare tutti gli altri colori se sommiamo il rosso al verde otteniamo il giallo se sommiamo il verde al blu otteniamo il colore ciano se sommiamo il blu con il rosso otteniamo il magenta tutti e tre i colori sommati insieme si ottiene il bianco variando la percentuale dei colori primari si ottengono tutti gli altri colori per registrare un punto con informazioni sul colore ci occorrono tre fotodiodi uno che registra 255 valori di rosso uno che registra 255 valori di verde in inglese green ed il terzo registra 255 valori di blu quindi per registrare un pixel colorato occorre tre byte la combinazione di questi tre dati ci fornisce l'esatto colore del punto i sensori migliori possono avere una profondità di colore maggiore di 8 bit cosa significa che se abbiamo una profondità di colore di 16 bit vuol dire che ogni informazione rgb viene memorizzata anziché su 8 bit ma su 16 bit ossia ogni riferimento ad un colore viene registrato su due byte anziché uno registrando così una scala di 65.535 valori migliorando notevolmente la qualità dell'immagine se passiamo a 24 bit avremo 3 byte per ogni colore con una scala 16.777.215 di valori il pixel è formato da tre fotodiodi che sono sensibili ai tre colori fondamentali uno al rosso uno al verde ed il terzo al blu ogni pixel fornisce l'indicazione di un punto luminoso questa conformazione di pixel è attuata nei monitor per visualizzare ogni singolo pixel mentre nei sensori vi è poco spazio quindi occorre usare l'interpolazione dei valori il sensore è composto da una griglia di fotodiodi quadrati dei tre colori primari ogni pixel è composto da una griglia di quattro fotodiodi uno rosso uno blu e due verdi in questo modo vengono interpolati i valori rgb per il pixel successivo spostiamo la griglia di un fotodiodo e calcoliamo i valori rgb per i quattro fotodiodi rosso blu e due verdi così in tutto il sensore avremo i valori interpolati di tanti pixel quanti sono i fotodiodi essendo il sensore un dispositivo elettronico possiamo variare il guadagno di un sensore ossia renderlo più sensibile o meno sensibile allineando questi valori di sensibilità alla scala iso aumentando la sensibilità oltre ad aumentare la capacità di leggere informazioni utili aumentiamo anche i segnali parassiti che formano una variazione casuale dei pixel dell'immagine simile all'effetto grana delle pellicole questo effetto viene chiamato rumore questo problema si verifica meno sui sensori di qualità maggiore è la grandezza dei fotodiodi minore è la possibilità che si formi il rumore se facciamo una foto da cellulare con sensore da 20 megapixel avremo molto più rumore rispetto ad una fotocamera con sensore full frame da 20 megapixel vediamo ora i tipi di sensori in base alla loro dimensione full frame e grande 36 x 24 mm a ps h e grande 27,90 x 18,60 mm a ps c grande 23,60 x 15,60 mm 4 terzi e 17,30 x 13 mm un pollice e 12,80 x 9,60 per la sensibilità o guadagno di solito partiamo da un valore di 100 iso che rappresenta la sensibilità ordinaria del sensore se vogliamo raddoppiare il guadagno e far sì che la sensibilità aumenti di uno stop portiamo la sensibilità a 200 iso ogni volta che raddoppiamo il valore espresso in iso in pratica aumentiamo la sensibilità di uno stop quindi 200 iso equivale ad uno stop 400 iso equivale a 2 stop e 800 iso equivale a 3 stop in base al sensore possiamo arrivare anche a 25 mila e 600 iso ed oltre dobbiamo tenere presente che oltre 800 iso possiamo incorrere nel rumore del sensore e questo dipende dalla qualità del sensore bene eccoci giunti alla fine di questa puntata oggi abbiamo parlato del sensore di come viene memorizzata l'immagine sulle memorie e anche la scala di sensibilità del sensore che viene spesa in iso la prossima puntata invece parleremo dell'esposizione di come valutare e calcolare bene l'esposizione per avere una foto perfetta arrivederci alla prossima